I benefici della corsa sono molteplici ma per godere pienamente di questa bella esperienza è fondamentale curare diversi aspetti. Il runner amatore sottovaluta spesso l'allenamento funzionale che richiede la corsa. Anche qui porta un ginocchio flesso in avanti, allunga la gamba e tieni il tallone a terra. In questo programma che ho studiato per te ho suddiviso in varie lezioni tutti gli aspetti fondamentali per migliorare la mobilità, la stabilità, l'appoggio del piede, la forza e la tecnica di corsa. Questo era Running Program che puoi praticare quando e dove vuoi solo su PureTV. Ci vediamo alla prossima lezione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!